Giornata campale in casa dell'Aquila Calcio. Questa volta i risultati del campo e le manovre di mercato non c'entrano. È iniziato a Roma infatti il maxiprocesso sull'inchiesta di Irti Soccer, condotta dalla procura di Catanzaro, che ha coinvolto in tutto 29 società sportive e ha provocato 52 deferimenti. L'Aquila Calcio è coinvolta, dopo la scoperta effettuata dagli inquirenti, delle manovre dell'ex direttore dell'area sportiva Ercole Di Nicola, che, secondo l'accusa, avrebbe pilotato i risultati di 12 partite. Di queste dovrà rispondere il sodalizio rosso-blu, difeso dall'avvocato Flavia Tortorella. La prima parte della mattinata è stata dedicata alle stanze preliminari delle parti, con la difesa di Di Nicola, che ne ha chiesto lo straccio della posizione, e le altre parti coinvolte, che hanno presentato altre richieste, che verranno valutate dal collegio giudicante. Nel pomeriggio sono attese la requisitoria e le richieste di penalizzazione per le società coinvolte. L'Aquila Calcio punta ad un proscioglimento completo dall'indagine, puntando sulle stranità della società ai fatti contestati a Di Nicola, o, in seconda istanza, ad ottenere il minimo della pena prevista in questi casi. Per la difesa dell'Aquila Calcio, infatti, sarebbe evidente l'assenza di una responsabilità oggettiva e, anche dalle intercettazioni a disposizione dei giudici, il nome della società non proverebbe alcun coinvolgimento. Nella sede del capologo, intanto, tutti con il fiato sospeso, in attesa del pronunciamento definitivo che potrebbe arrivare nel giro di un paio di giorni.